Amici sportivi ben trovati allo Stunman Show! Ragazzi, allacciatevi le cinture e preparatevi allo spettacolo più pazzo d'Italia! Entriamo subito nel vivo del nostro show presentandovi i nostri piloti, signore e signori, gli Stun Drivers Team! Ryan e Elvis, Maverick e Jass, Roger, Yuri, Warren e il capo equipe, Roby Rossi! Andiamo a scaldare i pneumatici con i passaggi di props in due ruote! Andiamo a scaldare!